Ciao cari amici, oggi l'Ucraina ha utilizzato una quantità importante dei droni rispetto a quelli che utilizzava di solito. Si vede che hanno lavorato un po', hanno assemblato un po' di droni, li hanno messo nel magazzino per poter svolgere un bombardamento massiccio sul territorio russo. I russi affermano di aver abbattuto la gran parte dei droni, comunque alcuni droni sono arrivati alla destinazione, hanno colpito diversi obiettivi, è morto un civile, sono stati feriti altri, è stato danneggiato un impianto di produzione petrolifera. I russi hanno già detto che l'incendio è stato domato, che il danneggiamento non è gravissimo, che la struttura comunque sarà riparata perché ci vuole molto per distruggere un impianto del genere. Comunque creare un fastidio, bloccare l'impianto per qualche giorno, questo ovviamente un drone utilizzato in maniera decente può permettere di fare. E questa situazione, cari amici, ci dimostra un dato molto interessante perché a parte utilizzo dei droni di tipo aereo senza pilota, che si chiamano UAV, che di solito somigliano a piccoli aereo o in alcuni casi sono veri e propri aereo monomotore, noi li abbiamo visti anche utilizzati dagli ucraini, sono veri e propri aereo monomotore, che sono di solito trasformati nei oggetti volanti senza pilota, c'è un sistema che viene installato a bordo di questo aereo, che permette di lanciarlo e poi lui va verso la destinazione seguendo autopilota e si schianta in una zona più o meno indicata dagli operatori. Non è altissima precisione di questo aereo, ad esempio di recente abbiamo visto come un simile aereo ha colpito nella città di Kazan una struttura studentesca, in realtà quell'aereo doveva arrivare nella fabbrica dove producono i droni in Geraint 2 e fare un'enorme esplosione là. Invece l'aereo si è schiantato contro un dormitorio di università dove pernotavano studenti dell'università di aeronautica militare russa e ci sono state due vittime tra gli studenti, però è anche importante da dire che ad esempio il carico di esplosivo che portava questo aereo per via di una caduta di questo aereo accidentale non è esploso del tutto, quindi poteva essere sicuramente un danno maggiore, ma in realtà poi aereo ha semplicemente perforato con la propria struttura, con il proprio telaio il muro, ha fatto dei danni ma non c'è stata un'enorme esplosione. Questo dimostra che questi tipi di droni creati dagli aerei trasformati negli oggetti volanti senza pilota non sono molto efficaci, però i droni creati apposta come ad esempio i droni russi Geran 2 che sono le modifiche del drone iraniano Shahid 136 oppure diversi droni ucraini che vengono creati in Gran Bretagna, in Germania e poi trasportati in Ucraina, che vengono smontati e vengono assemblati o in Ucraina o in Polonia, questi droni sono abbastanza efficaci e gli ucraini li usano soprattutto per colpire i territori della Russia e per dimostrare anche ai loro partner occidentali di avere una specie di iniziativa in questa guerra. Un'altra cosa molto interessante, sempre legata ai droni, è l'intensificazione dell'uso e di sviluppo dei droni FPV in prima linea. Droni FPV sono questi quadrocotteri di dimensioni ridotte, sono abbastanza potenti, dipende dal modello, per portare gli esplosivi e alcuni sono droni kamikaze ai quali vengono assemblati gli esplosivi e il drone porta questo esplosivo fino all'oggetto che deve essere colpito, che sia un mezzo cingolato, blindato, corazzato, un mezzo di trasporto truppe, caro armato, l'obice semovente, l'obice trainante da campo, il sistema di lancio missilistico, il sistema di lancio multiplo dei razzi reattivi non guidati, ma anche trincee del nemico, punti rafforzati del nemico, le posizioni dei mitragliatori e così via. Questi droni vengono utilizzati per portare alla destinazione un esplosivo abbastanza potente che può essere equivalente al colpo del RPG e questi droni vengono spinti ovviamente fino in fondo e esplodono insieme con l'esplosivo, per questo motivo li chiamano spesso i droni FPV, sono spesso chiamati anche droni kamikaze. E poi ci sono droni trasportatori, droni bombardieri, droni da sgancio, oppure droni ritrasmittitori, droni di trasporto sono di solito i droni che vengono utilizzati per trasportare materiale, voi sapete che ci sono le situazioni quando in prima linea i riparti avanzati, i riparti d'assalto prendono una posizione, si trovano in diretto contatto con il nemico e c'è bisogno da parte della logistica di rifornire in fretta di munizioni, di medicinali, di viveri, perché questa gente si trova comunque sul punto della lama e è molto difficile arrivare a loro fisicamente, quindi vengono mandati i droni che portano una ridotta quantità, ma comunque una quantità di materiale che è necessario a un riparto in prima linea, possono portare munizioni, le bombe a mano, possono portare qualche attrezzatura specifica, se ad esempio viene danneggiata un'arma, possono portare una parte di ricambio di un'arma e così via. Questi droni vengono utilizzati, i droni di trasporto vengono utilizzati ampiamente in prima linea, ormai da tutti, la logistica li utilizza tantissimo. Poi ci sono droni da osservazione che servono per osservare ciò che succede, questi droni hanno una potente videocamera e anche un potente trasmettitore audio, tra l'altro i russi hanno due tipi di droni di questo genere, che hanno le camere notturne molto sensibili, che agiscono in diversi principi, ci sono quelli che agiscono individuando il calore degli oggetti, poi ci sono gli altri che sfruttano la luce che viene raccolta, diciamo, nel buio, la luce che l'occhio umano non vede, ma una videocamera molto sensibile può vedere. Quindi questi droni permettono agli osservatori, anche nella situazione del buio, di vedere il nemico, i suoi spostamenti, segnalare queste cose all'artilleria o ai reparti militari, che poi prendono le loro decisioni e lavorano su questa direzione. Poi ci sono i droni da sgancio, i droni da sgancio sono droni più semplici, diciamo, che esistono perché sono droni trasportatori, ai quali sono quadracotteri che possono trasportare un top di peso, ai quali vengono assemblati dei semplici sistemi, a volte sono addirittura molto rudimentali, sistemi da sgancio, e questi droni possono sganciare diversi tipi di esplosivi. I russi, ad esempio, trasformano gli esplosivi sganciati dai droni, nelle bombette, trasformano i colpi per lancia granate individuale, i colpi che si chiamano Vogue 25, e poi ci sono diversi tipi di granate del genere che possono essere utilizzati, trasformati nelle bombette. I russi, tra l'altro, utilizzano molti ordini che loro prendono, catturano dagli ucraini. Quando i russi, ad esempio, conquistano un punto di difesa ucraino, è chiaro che insieme con, magari, i militari che si orrendono, insieme con queste posizioni, loro conquistano anche le armi, le munizioni, i vivere, tutto quello che c'è, e spesso trovano le granate, appunto, per diversi tipi di lancia granate portatili, e queste granate vengono utilizzate per creare le bombe con quale poi dopo il drone da sgancio può colpire le posizioni del nemico. Per questo alle granate vengono attaccate una coda di plastica, che di solito viene stampata con un printer, con una plastica leggera, e poi viene cambiato un po' il meccanismo di esplosione, l'ennesco e la spolletta. Questi droni possono anche sganciare i colpi da mortai, non quelli pesanti, non da 120, però sicuramente da 85, da 60 mm i colpi leggeri da mortai possono essere sganciati da questi droni. In grande linea, cari amici, tutte queste tipologie dei droni necessitano una base. Si tratta comunque di un sistema di eliche, sono di solito come minimo quattro eliche, poi ci sono alcuni droni che hanno più eliche, ad esempio il famoso drone agricolo ucraino Baba Yaga, che in realtà è stato creato per gli agricoltori, un drone che si utilizzava per disperdere fertilizzanti, per osservare i campi, per scacciare gli animali e così via. Adesso viene utilizzato per la guerra, questo drone è molto potente, può trasportare parecchio peso, perché appunto doveva essere, doveva svolgere i lavori agricoltori, agricoli, perdonatemi, quindi doveva trasportare un'importante quantità di materiale che poi veniva disperso sul campo. Questi droni vengono trasformati dagli ucraini o in droni bombardieri, oppure in droni trasmittitori, cioè un drone del genere, su un drone del genere viene montato un sistema elettronico di trasmissione delle onde, c'è una batteria, serve una batteria molto potente per questo trasmittitore, infatti questo drone porta questa batteria soprattutto, cioè il peso principale è la batteria pesante, e un sistema di trasmissione serve per aumentare la lunghezza dell'attività dei droni, perché di solito tutti i droni piccoli hanno limite di volo che al massimo raggiunge 25 km, normalmente agiscono, in prima linea agiscono nella lunghezza di 10-20 km, non di più. Con drone che porta ritrasmittitore, funziona così, lui si allontana a 25 km, quindi il trasmittitore che porta sopra questo drone riceve il segnale e lo ritrasmette per altri 25 km, quindi aumenta la distanza dell'azione dei piccoli droni FPV a 50 km addirittura. Gli ucraini usano moltissimi droni, in alcuni settori di prima linea adesso si vedono tantissimi droni FPV, droni di sgancio bombardieri, droni rattrasmittitori, e poi anche, tra l'altro, drone Baba Yaga viene trasformato spesso anche in un drone portatore di altri droni, ad esempio, viene lanciato questo drone che porta, agganciato a sé, 4-5 droni più piccoli, si allontana a una distanza di 20 km e poi vengono sganciati questi droni che agiscono nel territorio senza consumare la batteria e hanno più tempo per agire, per osservare, per fare tutti i loro compiti. Quindi, per gli ucraini, soprattutto negli ultimi tempi, si vede che i droni rappresentano ormai l'unico strumento disponibile da applicare in prima linea. E da qui cosa possiamo fare? Che importanti conclusioni possiamo fare osservando questa tendenza? Perché ormai, in alcuni settori del fronte, gli ucraini non usano più i carri armati, non usano più i blendati, non hanno più l'artilleria. L'artilleria non riesce più a mantenere stesso livello di fuoco e di controbatteria che hanno i russi. E queste mancanze, gli ucraini cercano di colmarli con l'utilizzo dei droni, l'utilizzo massiccio. Fanno i droni veramente di tutto, utilizzando qualsiasi materiale. Ci sono dei video, io qualche volta pubblico anche le foto dei droni ucraini che sono veramente fatti in maniera ingegnosa, utilizzando qualsiasi cosa. Addirittura c'era un drone che è stato creato utilizzando le lattine di bevande gasate, lattine un po' modificate. Qualche ucraino in garage ha iniziato a costruire questi droni. Ovviamente hanno molti limiti, non sono in grado di trasportare grandi pesi. In effetti uno di questi droni è proprio crollato e i russi l'hanno trovato così. E hanno scoperto che esiste una cosa del genere. Però questa tendenza ci dimostra che gli ucraini hanno enormi difficoltà nel fornimento delle armi e di munizioni. Molto più di quanto ci raccontano a noi i vari giornalisti esperti. E su alcuni settori ormai loro utilizzano solo i droni. Cioè quella che possiamo chiamare l'iniziativa tattica, quando i riparti militari riescono a organizzare qualcosa dal punto di vista di applicazione tattica, riguarda solo i droni. Ormai non mandano le squadre, non mandano i carri, l'aviazione non esiste in Ucraina quasi. L'altro giorno in Russia le hanno distrutto altre tre MiG-29. Quindi i droni rimangono per loro un'unica arma disponibile adesso. Per questo loro stanno sviluppando i droni in una quantità enorme. Qua c'è un'altra riflessione con la quale io chiudo questo video. Dal punto di vista operativo, sì, droni sono facili da costruire, non sempre facili da impegnare con una, diciamo, efficacia assoluta, perché drone non può sostituire certi tipi d'arma. Sicuramente il drone può garantire qualche tipo di azione, ma non può, ad esempio, sostituire il fuoco dell'obice semovente, non può sostituire il fuoco dell'obice trainante, non può sostituire l'impegno di un elicottero di guerra, non può assolutamente essere paragonato allo stesso livello dei missili anticarro, missili reattivi guidati, come ad esempio sistemi russi Ptur, Carnet e così via. Quindi io leggo spesso anche alcune persone che si azzardano di fare le analisi, qualcuno che cerca di creare proprio il ragionamento, di dire sì, va bene, gli ucraini non hanno razzi reattivi anticarro nella stessa quantità in cui hanno i russi, però hanno droni FPV che possono essere utilizzati per colpire i mezzi. Cari amici, un carro armato, ben difeso, comunque può resistere a diversi colpi dei droni FPV. Io di recente ho condiviso un video impressionante, un video molto significativo, se volete vederlo andate sul mio canale privato Telegram, il link per abbonamento troverete nella descrizione di questo video. In pratica si tratta di un video della prima linea in cui si vede un mezzo corazzato russo, un mezzo di ingegneria militare che serve per sminare i campi. Questo mezzo sta tornando da un'azione di sminamento e viene colpito dai droni ucraini. Amici, ha ricevuto cinque colpi, cinque colpi dei droni con le cariche dei razzi RPG-7 anticarro. Si vedono cinque colpi esattamente sulla struttura del veicolo, esplosioni e tutto quanto. Il veicolo ha continuato a andare, anche se c'era in una parte del veicolo evidente all'inizio di un incendio, c'erano le fiamme, comunque il veicolo non si è fermato, l'equipaggio non è stato danneggiato, l'autista ha continuato a proseguire e ha riuscito a portare via dal campo di battaglia il proprio mezzo, ha svolto il proprio compito e ovviamente cinque droni non sono stati in grado di fermare questo mezzo. Tra l'altro questo dice lunga anche sulla differenza tra lo spirito e la preparazione di conduttori dei mezzi corazzati russi e quelli ucraini. Io spesso condivido vari materiali che riguardano la cattura dei diversi mezzi corazzati da parte dell'esercito russo, cattura dei mezzi ucraini, mezzi che ormai provengono dai paesi della NATO. Di recente ho condiviso un interessante materiale sulla cattura dell'ennesimo Bradley che è stato catturato insieme con un altro blendato trasporto truppe M113 entrambi prodotti nelle Stati Uniti d'America nelle epoche diverse ma comunque si tratta di mezzi attivi e operativi che nell'esercito ucraino svolgono comunque il loro servizio in prima linea e la cosa divertente era che entrambi i mezzi sono stati abbandonati dall'equipaggio dopo che non hanno subito dei colpi diretti ma sono esplose nelle vicinanze le colpe di artilleria russa cioè il mezzo non è stato colpito semplicemente i russi hanno cominciato a sparare con gli obici e tra l'altro il Bradley ha subito un danno perché esplodendo vicino un colpo di artilleria ha strappato proprio come un guscio dall'uovo sodo ha strappato dalla corazza di Bradley tutta la fiancata fatta di sistema di protezione attiva antimissile che si chiama Brat della quale c'è tanto decantata dalla quale gli americani erano molto fieri a quanto pare basta che vicino esplode qualcosa questa salta salta fuori come niente e gli ucraini hanno abbandonato questi mezzi senza tentare di portarli in salvo senza tentare in qualche modo di rimanere comunque in battaglia a fare qualcosa di positivo hanno aperto gli sportelli sono scappati i russi sono arrivati e hanno portato via questi mezzi praticamente intatti perché comunque dal punto di vista del motore di cingoli delle armi non ci sono stati grossi danni con questi mezzi si poteva ancora combattere questo dice molto sul fatto che gli ucraini uno sono poco motivati ma poi loro combattono con i mezzi che hanno ottenuto gratis e l'idea ucraina è che tanto che se ne frega l'occidente ce ne darà ancora tanto tanto c'è in Italia la zeapina che non ha niente da fare piena di soldi non vede l'ora di mandare i suoi soldi in Ucraina per comprare l'ennesimo blindato cingolato lobice o qualcos'altro e quindi chi se ne frega appena noi abbiamo un minimo di paura abbandoniamo tutto ai russi e scappiamo questa è in grande linea la differenza per questo motivo gli ucraini rimangono senza mezzi e devono essere costretti di utilizzare i droni comunque l'utilizzo dei droni cari amici non può in nessun modo sostituire l'utilizzo di altri tipi di armi quindi un drone FPV non sostituirà mai un obice pesante un missile anticarro guidato un elicottero d'attacco oppure altri tipi d'arma che sono necessari in prima linea per vincere questa guerra quindi questo è un ragionamento che volevo fare con voi perché vedo che si parla molto dei droni e tante persone non capiscono fino in fondo quanto si può fare con i droni cosa si può fare con i droni e cosa invece con i droni è impossibile fare impossibile di ottenere sul campo di battaglia carissimi con questo vi saluto vi invito di abbonarvi al mio canale privato telegram il link per abbonamento troverete nella descrizione di questo video ci sono migliaia di persone che sono iscritte al mio canale che ogni giorno si informano approfondendo le notizie che sono vietate censurate strumentalizzate oppure semplicemente tacciute sul mainstream occidentale perché come voi sapete la gran parte dei nostri giornalisti sono ormai totalmente schiavi del sistema oligarchico occidentale che è interessato di portare avanti questa feroce e inutile guerra se volete invece sostenermi qua su youtube io come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale commentare i miei video condividere i miei video con i vostri amici qua alle mie spalle vedete il mio libro che si chiama La guerra e l'odio in questo libro io ho raccontato le origini della guerra in Ucraina se vi interessa questo argomento se volete sapere chi, come, quando e perché ha creato questa carneficina io vi invito di approfondire la lettura e poi magari fatemi sapere cosa ne pensate grazie per la vostra attenzione grazie per il vostro sostegno per i vostri messaggi per le vostre donazioni per la condivisione delle vostre opinioni per me tutto questo è molto importante vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene